Oggi vi racconto la storia di Giovanni dalle Bande Nere. Questo è un nome affascinante, un nome importante della storia del Medioevo italiano, un nome davvero suggestivo che richiama tanto coraggio, tanta forza. Ma chi era davvero Giovanni dalle Bande Nere? Perché questo nome è così particolare nella storia d'Italia e per certi italiani? Giovanni dalle Bande Nere nasce a Forlì. Il padre è Giovanni dei Medici e non è della casata principale dei Medici ma è uno dei Medici, ovviamente lui è Ludovico di Giovanni dei Medici. Questo è il nome ufficiale di Giovanni dei Medici, Giovanni dalle Bande Nere. Sua madre è Caterina Sforza, a sua volta discendente da Muzio a Tendolo Sforza. Ho fatto un video su Muzio a Tendolo Sforza e questo è particolare. Ebbene, la madre, Caterina Sforza, discende da Muzio a Tendolo Sforza. Era già stata sposata con un certo riario, il conte riario, che verrà dopo a capire del perché, ve lo racconto. Ma soprattutto Caterina Sforza era importante perché era prima donna condottiera. Nel senso, lei aveva un castello, praticamente era la castellana, la dama, la marchesa di questo castello e lo difese per anni, per anni dalle forze del Papa, contro le forze del Papa, fin quando venne Cesare Borgia, riuscì a batterla e lei fu arrestata. Lei fu arrestata, cosa fare di Giovanni? Giovanni era piccolissimo in quel periodo, il padre era già morto, la mamma arrestata, lo misero al monastero, però andava crescendo dopo un po' di tempo, giustamente il bambino doveva andare via. Allora ha preso un lontano parente dei Medici di Firenze, un certo Jacopo Salviati, io dico certo, ma sono nomi importanti anche loro, comunque ha preso Jacopo Salviati, che era il marito di Lucrezia dei Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico, ho parlato anche della congiura dei Pazzi, sono tutte queste cose insieme. Comunque c'è questo Jacopo Salviati, dice vabbè lo prendo io, lo prendo in custodia io il ragazzo, solo che il ragazzo è testa caldissima e a 15 anni uccide un suo amichetto, un suo amico, un suo amichetto, diciamo, uccide uno e una rissa, già a 15-16 anni. A Firenze lo bandisce, è bandito Giovanni dei Medici, già questo nome Giovanni dei Medici comincia ad essere importante, o quantomeno è conosciuto. Dopo un anno ritorna a casa da Jacopo Salviati, perché Jacopo Salviati è mandato a Roma come ambasciatore di Firenze presso il Papa Leone X. Leone X era uno della famiglia dei Medici, quindi sia Salviati che Giovanni sono un po' in famiglia, allora il Papa dice senti ma tu mettiti un po' la testa a posto, ti do comunque un ruolo nelle forze militari pontifici e diventi capitano di uno delle mie compagnie. Dice va bene, va bene, va bene, è piccolo lui, ha 17 anni, sta facendo una passeggiata con degli amici romani, quando ci sono degli orsini, la famiglia degli orsini, un gruppo di questi qua, che lo riconoscono e dicono quello è il figlio di Caterina Sforza, lo incominciano un po' a sfottere, ne nasce una rissa e c'è un certo brancaccio, questo è un omone che ha fatto tante battaglie, era un mezzo condottiero, eccetera, eccetera, Giovanni lo uccide. Lo uccide con un colpo di pugnale, lo uccide, questo fa davvero notizia, perché quel brancaccio era considerato un grande guerriero e Giovanni a 17 anni lo uccide. Allora, comunque sia, deve andare via da Roma, scappa da Roma e Giacomo Salviati dice figlio mio, ovunque sei tu uccidi qualcuno, vai a Napoli, a Napoli anche lì ne combina di tutti i colori, fin quando il papa dice, senti a me questo Giovanni de' Medici mi interessa, mi serve, perché io devo andare in guerra contro Urbino. Ed è la prima guerra di Giovanni de' Medici, va in guerra contro Urbino e succede una cosa, innanzitutto lui, la sua compagnia incomincia a amarlo, immediatamente lo vedono come il condottiero, il loro condottiero, anche se è giovanissimo. Dopo ha un occhio acutissimo, ha un occhio di aquila, riesce a vedere immediatamente le posizioni degli avversari, i movimenti degli avversari, ma più che altro, lui passa dalla cavalleria pesante a una cavalleria leggera, vuole cavalli leggeri e veloci, vuole armature leggerissime e veloci, perché vuole fare una guerra, una battaglia baruffe di movimento, quella a sua forza, diventa quasi imbattibile e non solo, i suoi uomini diventano devoti, avete presente i Marines oggi? Ecco, quelli erano gli uomini di Giovanni, Giovanni de' Medici, erano proprio, invece di avere il corpo dei Marines come la cosa più importante, avevano Giovanni de' Medici come la persona più importante, e lui aveva queste bande che erano bianche e viola, arriveremo alle bande nere, aveva queste bande bianche e viola, e si fa una reputazione, si fa una gran bella reputazione. Succede che la sorella Astra, la figlia di Caterina Sforza, si chiama Bianca Riario, la figlia del primo marito di Caterina Sforza, lo chiama, e sono suo fratella, sua sorella Astra, c'è Giovanni, Giovanni, siccome gli era morto il marito, che era un condottiero, era un guerriero, uno forte, era, si chiamava, l'ho scritto da qualche parte, trollo primo, ma uno davvero di quelli forti forti, gli era morto, c'era un vescovo, un suo lontano parente, un parente di famiglia, così, che gli aveva preso la contea, gli stava rubando i beni, lei chiama Giovanni, dice, Giovanni, guarda, mi sta succedendo questo, questo qua, mi sta rubando tutto, eccetera, eccetera, neanche a far solo dire, Giovanni arriva lì, distrugge tutto, gli ridà la contea alla sorella, non ne vorrei sapere, il vescovo fugge mezzo nudo, perché lui non insegue, è tutta una storia, comunque è nervosa, è molto nervosa, la bianca non me l'ha toccata, eccetera, eccetera, ma succede un'altra cosa, succedono altre due cose in quella baruffa, lite, zuffa, guerricciola, come vogliamo chiamarla, primo si innamora di una donna, questa donna è la bellissima Camilla del Rossi, che è figlia di Bianca, quindi è sua nipote, è figlia di Trollo, e lui si innamora di sua nipote, sta con sua nipote, diventa la sua amante per molto tempo, e dopo diventa amico dell'Aretino, che era stato cacciato via da Roma, l'Aretino è famoso poeta, poeta erotico, rimase con Giovanni per tantissimo tempo, e succede un'altra cosa, la più importante forse nella sua vita, muore Leone X, che era quello il papa che l'aveva preso sotto la protezione, lui allora dice non voglio più vedere le mie bande bianche o viola, le voglio vedere solo nere, e quindi da quel momento diventa Giovanni dalle bande nere, e lo amano ancora di più, lui comincia a fare la guerra con i tedeschi, praticamente si allea con i tedeschi, incomincia a guerreggiare insieme ai tedeschi contro i francesi, ma il nuovo papa, che non mi ricordo adesso il nome allo scrittore, dovrebbe essere Clemente, c'è un nuovo papa che succede a Leone X, che è un de' medici pure lui, lo chiama e dice senti io ti pago tutti i debiti, che so che hai tanti debiti, perché lui aveva tanti debiti e doveva pagare i suoi soldati, quindi io ti pago tutti i debiti, ma tu mi devi combattere con i francesi invece che contro i tedeschi, Giovanni dice ho combatto con quello, con quell'altro, io sono fedele al papato, quindi non c'è problema, il papa è contento, gli paga i debiti, dice vai a combattere, e incomincia a combattere contro i tedeschi, gli viene da tutti i tipi ai tedeschi, poi li batte tantissime volte, fin quando arriviamo alla battaglia di Pavia, che è una battaglia campale, una battaglia fra tanti eserciti, nel senso fra tante persone, dove i tedeschi battono i francesi, a lui gli sparano su una gamba, è la prima volta che gli sparano su una gamba e viene catturato, è una disfatta totale per Giovanni, molto, il 20-30% dei suoi uomini se ne va, perché dice vabbè ormai che hanno catturato, era un semidio, adesso è ferito, è in prigione, viene rilasciato tramite pagamento di una somma, viene rilasciato e va un po' a svernare in Romagna, però Venezia gli dice ma perché non viene a svernare da noi, cioè ti viene a riposare da noi, e lui dice a Venezia io sono troppo giovane per Venezia e Venezia è troppo vecchia per me, sorridendo un pochettino sul fatto che la Venezia era una repubblica antichissima, arriviamo al punto che c'è un altro, lui si rimette, si rimette su, c'è un'altra battagliola che anche di poco conto però c'è questa battagliola a Governolo che è vicino Mantova, succede che praticamente in questa battaglia lui sbaglia le misure, allora, era successo, i tedeschi erano arrivati, il Gonzaga aveva aperto le porte tedesche, aveva fatto passare l'esercito tedesco e lui aveva chiuso e lui arriva alle porte di Mantova e dice fammi passare che li devo andare a prendere, non lo fa passare, allora lui fa un giro tutto largo, l'indomani mattina li trovi in una posizione predominante, succede un po' di tutto, insomma lui si fa una manovra sbagliata, arriva là davanti, quelli hanno tutti gli schioppi in mano, gli uomini di Alfonso d'Este e Alfonso d'Este gli spara, perché si dice, la leggenda vuole che Alfonso d'Este gli spara un altro colpo sulla stessa gamba, Alfonso d'Este è il marito di Lucrezia Borgia, tutti là, erano tutti là, comunque gli spara questo secondo colpo e a lui gli viene la setticemia e la gangrena, gli tagliano la gamba e all'aretino scappa, all'aretino è là con lui, quando gli tagliano la gamba però non vuole vedere quella scena, scappa, dice che quando ritorna Giovanni si sentiva ancora in forze, però ovviamente già senza gambe eccetera eccetera, stava morendo, però sorrideva, si girava a parlare verso gli altri, questione di pochi giorni, Giovanni muore, Giovanni alle bande nere muore e lì la sua leggenda diventa ancora più leggenda, ed anche senza motivo è una leggenda tramandata di un italiano che fu tradito dagli italiani, il punto fu questo, lui fu tradito, lui era uno che amava l'Italia e infatti aveva detto io combatto contro i francesi, i tedeschi, a me non interessa contro il che combatto, ma io non voglio combattere contro gli italiani, mentre il suo cugino che era il Gonzaga gli chiuse le porte, gli chiuse le porte di Mantova e lui gli disse ma cosa sta facendo, io sono un italiano, tu no, cioè sta aiutando i tedeschi e quello è un po' un po' grossetto, brutto a vedersi quel Gonzaga lì, un po' se ne fregò, un po' eccetera eccetera, e da lì ecco perché nasce la leggenda e il risorgimento, prende Galeate, prende Giovanni alle bande nere come uno degli eroi italiani, perché in effetti lo fu, in effetti lui era molto legato all'Italia, era molto legato al territorio. Detto questo, per chi non lo sapeva, questa è la storia dei Giovanni delle bande nere, come vedete ci sono, incominciano dopo tanti video, più video che sto facendo, a rincorrersi, a ritrovarsi i nomi che abbiamo già studiato, che abbiamo già visto, che abbiamo già conosciuto in altri video. Se non l'avete già visto, andatevi a guardare Muzio Attendo lo Sforza, che era il nonno o il bisnonno di Caterina Sforza, giusto per capire di cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. Erano tutti insieme, erano tutte queste famiglie, si sposavano fra di loro, quindi ovviamente questa, comunque la famiglia e la storia d'Italia. Ciao ragazzi, ciao ciao!